Ciao, sono Elena Righi di Gateway.com Anche l'inverno è un periodo molto proficuo per chi lavora nell'immobiliare perché le richieste da parte degli acquirenti esteri non si fermano anzi, continuano la ricerca in previsione del periodo primaverile uno dei loro preferiti per i viaggi Ecco la prova per chi è ancora scettico Gateway.com, l'estero è per tutti Tra festività pasquali, pause primaverili ed estive il calendario degli stranieri è ricco di molte occasioni per organizzare un viaggio all'estero Si tratta di un'opportunità per visitare l'Italia e gli immobili già trovati e selezionati a distanza Proprio per questo, da gennaio a marzo, Gateway.com continua a registrare molte richieste Nel primo trimestre si concentra circa il 28% delle richieste ricevute durante tutto l'arco dell'anno Nel 2023 le richieste sono cresciute del 127% rispetto agli stessi mesi nel 2019 il periodo pre-Covid Spero che questo video ti sia utile Se ti è piaciuto lasciaci un like e per qualsiasi domanda scrivici nei commenti Qui ti lascio altri video che potrebbero interessarti e per non perdere i nostri prossimi consigli iscriviti al canale Gateway.com, l'estero è per tutti